e guardate cosa è comparso ieri 15 novembre 2024 nella gazzetta ufficiale corte suprema di cassazione annuncio di una richiesta di referendum abrogativo ai sensi degli articoli bla 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 la cancelleria della corte suprema di cassazione in data 14 novembre 2024 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum ok quindi si procederà con la raccolta di 500.000 firme per 4 referendum abrogativi in merito a che cosa alla legge 31 luglio 2017 che la conversione in legge del decreto 7 giugno 2017 ovvero il decreto lorenzini sugli obblighi dei vaccini pediatrici bene gli argomenti dei quattro quesiti ho provato a leggere è tutto molto complicato ce lo deve spiegare qualcuno però occhi e croce gli argomenti dovrebbero essere l'obbligo l'esonero l'immunizzazione da malattia la prevenzione vaccinale inizierà quindi la raccolta di firme voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale grazie a tutti